Uomini e donne, per chi segue da anni la trasmissione ha dell'incredibile quello che è da poco successo tra Roberta Di Padua e Ida Platano. Dame storie del programma e rivali storiche in amore, hanno entrambe avuto una storia poi finita male con Riccardo e anche in questa stagione si sono ritrovate nello stesso studio. Si pensava di non rivedere più, o almeno a lungo, Ida giacché fidanzatissima con Alessandro Vicinanza. Mentre Roberta ha subito preso posto nel parterra settembre scorso e ora, dicembre, rieccole una di fronte all'altra. Letteralmente, perché Ida Platano è stata promossa a tronista, mentre Roberta è tra le dame. Negli ultimi giorni si sono scontrate di nuovo. Anche nell'ultima puntata hanno continuato a battibeccare su Alessandro Vicinanza, che è un ex per entrambe ed è tornato in studio per provare a riuscire con la Di Padua. Ida aveva accusato Roberta di essersi messa al centro della loro storia, così come starebbe facendo ora con Marco Antonio e Emanuela. Lui non si sentiva amato da te, ha detto Roberta. Non è vero. Io ho letto cosa ha detto. Non ha detto ciò. Mi ha lasciata lui. Che dovevo fare? Ha ribattuto Ida. Entrambe hanno sofferto per la fine della relazione con l'ex cavaliere che, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto ritorno in studio. Poi, dopo il battibecco, il pianto liberatò. E subito dopo si sono strette in un forte abbraccio a cui pochi pensavano di assistere. È stata latronista a fare il primo passo. Vedendola in lacrime, si è alzata e deciso di raggiungerla per abbracciarla. Ci sono stata male anche io prima.